Musica Domani 4 luglio parte la bell'estate, una manifestazione culturale che si snoderà nel mese di luglio e nel mese di agosto e ha l'obiettivo di far rivivere il centro storico. Perfetto, la location credo sia di estremo significato per la città e l'intenzione dell'associazione, l'associazione della bell'estate di cui sono presidente è proprio quella attraverso i vari convegni di cui uno è estremamente importante, dare una possibilità, tracciare uno scenario futuro per questa città e il convegno è Avellino città dell'accoglienza. Presupponendo Avellino come epicentrale nei confronti di tutta la regione, pensare di poter rattrarre tutto un flusso turistico che è interessato alle eccellenze turistiche della Campania, poterlo portare ad Avellino ed offrire non solo ospitalità ma anche eventualmente tutto quello che Avellino e la provincia è capaci di dare attraverso i suoi prodotti enogastronomici. Non a caso la nostra associazione è un'associazione culturale che ha la finalità del rilancio, del sostegno ma anche di un'indicazione di tipo culturale nei confronti dei prodotti enogastronomici. La bell'estate sull'idea di cui ideatore fortunato Giannacone è un contenitore di eventi che vanno dal teatro, dai convegni, dalla musica e che quest'anno comprende anche dei percorsi sul gusto sull'enogastronomia. Noi faremo cinque percorsi che interesseranno quelli che sono le nostre DOCG, quindi i vini e che interesseranno anche il miele e i formaggi, prodotti di eccellenza alla nostra terra e che interesseranno anche gli oli e il pane di Monte Calvo. Quindi è un percorso che credo che dovrebbe dare significato e lustro alla manifestazione ma anche ad Avellino che significativamente si prepara ad accogliere questa manifestazione e coloro che vorranno partecipare. La manifestazione è autofinanziata e ha il patrocinio morale da parte del Comune di Avellino? Allora, la manifestazione, sebbene sottolinearlo, è totalmente autofinanziata, tant'è vero che noi abbiamo chiesto e ottenuto la possibilità di una lotteria. Attraverso la vendita dei biglietti di questa lotteria, in parte sarà devoluta anche in beneficenza al maglificio 115 passi sostenuto da Libera, noi speriamo di finanziare e di sostenere tutta quanta la manifestazione, non solo, ma di dare una base economica all'associazione, cioè di riuscire a creare una sede. Quindi, come dire, la cittadinanza che riterrà opportuno intervenire, divenire, potrà dare il suo apporto con l'acquisto di questi biglietti. E un'altra cosa da sottolineare, si potrà ritenere completamente sicura nel momento in cui, perché, come dire, qui bisogna sottolineare, come dire, l'elogio della legalità che l'associazione sostiene. Allora, nel senso che noi abbiamo un presidio per il soccorso immediato, abbiamo l'apporto dei falchi antigenio, eventualmente si dovessero verificare eventi di questo genere, abbiamo 10 postazioni con gli estintori. Quindi, da un punto di vista della sicurezza, veramente abbiamo, come dire, completato il circolo di quello che è previsto dalla normativa. Grazie a tutti.